ciao a tutti oggi vediamo come suonare sweet home alabama dei line art sky nard con accordi semplici cioè io all'inizio ho suonato il riff noi vediamo soltanto gli accordi perché è un tutorial per principianti anzi non per principianti per di più per super principianti infatti questo è stato uno dei primi brani che ho imparato a suonare con la chitarra elettrica la ritmica è abbastanza semplice e gli accordi da utilizzare sono tre e andiamo a vederli quindi abbiamo un re maggiore poi abbiamo un si ed nine dopo l'aggiunta della nona poi abbiamo un sol maggiore fatto in questo modo qua no 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 Volendo ci possiamo spostare su accordi a barretti Re maggiore Sol maggiore Sol maggiore Per richiedere un tutorial personalizzato segui il link in descrizione Per fare una donazione che mi aiuterà tantissimo ad andare avanti a fare tutorial E mi aiuterà a migliorare la qualità degli stessi tutorial Segui il link sempre in descrizione Per prenotare una lezione su Skype o venire a lezioni qui in Toscana Segui il link in descrizione Per iscriverti al canale segui il link in descrizione E' tutto in descrizione E' tutto in descrizione E ci vediamo nel prossimo video